Benvenuti in un nuovo video Benvenuti e ben trovati al punto, come sempre siamo pronti per approfondire temi amministrativi, politici che riguardano il lavoro e l'attività dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Andiamo a conoscere gli ospiti di questa puntata e saluto il portavoce del centro-destra e liste civiche, Ricci Presidente, la lista civica che è entrata in Assemblea Legislativa, Claudio Ricci. Benvenuto a Claudio Ricci e benvenuto a Silvano Rometti che è il capogruppo dei socialisti e riformisti. Allora, questa è iniziata a giugno di quest'anno e la legislatura che conta nei suoi circa tre mesi di attività effettiva il più alto numero di atti ispettivi e di indirizzo, cioè interrogazioni e emozioni, presentati in gran numero dalle opposizioni ma con una presenza significativa di firme e di esponenti della maggioranza. Si può definire un maggiore protagonismo dell'Assemblea Legislativa, Rometti? No, si può definire così, si può definire anche il fatto che i consiglieri regionali che non hanno la responsabilità della gestione, io vedo la differenza avendo già fatto l'assessore in precedenza, è evidente che in una fase come questa dove i cittadini sollecitano l'istituzione a essere concreti nel dare risposta ai tanti problemi che ci sono, è ovvio che i consiglieri regionali in qualche modo devono essere interpreti di questa spinta che vengono un po' dalla nostra comunità regionale, e quindi sollevare problemi, sollecitare, evidenziare i punti deboli che ci possono essere nell'attività di governo e dell'amministrazione regionale, pur essendo all'inizio, peraltro proprio in una fase iniziale dell'amministrazione e del mandato amministrativo, credo che sia anche opportuno che le forze politiche che si oppongono naturalmente per il loro ruolo, ma anche all'interno della stessa coalizione di maggioranza, come dire, si segnalino quelle che sono le priorità che secondo le forze politiche che sono al governo di questa regione sono quelle da mettere in maggiore evidenza, da mettere in agenda, quindi la ritengo, non so se è più o meno dell'altra volta sinceramente, però... Cioè nei primi tre mesi effettivo mi dicevo assolutamente sì, poi vedremo i numeri alla fine della legislatura, ma ad oggi è così. La maggioranza probabilmente, nell'opposizione c'è stata forza... Diciamo che Ricci è uno di quelli che ha presentato più atti sin dai primi giorni della sua elezione, quindi lei punta, Ricci, a un maggiore protagonismo dell'assemblea, è la stessa domanda che facevo prima a Rometti. Credo che siano cambiati i numeri, in complessivi siamo 21 consiglieri regionali, 13 di maggioranza e 8 complessivi di opposizione. Noi come consiglieri di centrodestra e liste civiche, siamo 6 consiglieri regionali, abbiamo ad oggi in maniera unitaria presentato circa 45 atti, in particolare sono mozioni e disegni di legge, perché riteniamo che il ruolo dell'opposizione sia quello certo di un controllo molto rigido di quello che svolge come atti di governo la maggioranza, ma sicuramente poi occorre anche proporre progetti alternativi rispetto al governo regionale. I 45 atti, che sono un numero credo molto significante, sono prevalentemente mozioni propositive o disegni di legge e prevalentemente sono stati firmati da tutti e sei i consiglieri di centrodestra e liste civiche, questo anche a segnalare una grande unità di intenti, peraltro seguendo quelli che erano stati i 20 punti principali del programma presentato durante le elezioni regionali, che ricordo per il centrodestra e le liste civiche ha avuto un ampio significato. Noi siamo passati da una distanza di ben 20 punti percentuali fra centrosinistra e centrodestra, questa distanza si è ridotta a circa 3 punti percentuali, e quindi anche il nostro ruolo è cambiato, non solo un ruolo incisivo di opposizione e controllo, ma anche propositivo perché poi chi ci elegge vuole anche da noi capire la nostra reale capacità di governo, sino anche alternativo. Allora, uno degli atti in discussione in Commissione, importantissimo per lo sviluppo economico e sociale dell'Umbria, è il nuovo piano dei trasporti 2014-2024. Rometti nella sua veste passata di assessore a ramo ne ha curato gran parte della stesura, Ricci ha presentato invece molteplici proposte di modifica. È un atto che dovrebbe andare ad approvazione in Commissione, poi in aula nel breve giro di giorni, di settimane, importantissimo dicevo, ricominciamo da Ricci. Ecco, come valuta questo documento e soprattutto le sue proposte riguardano soprattutto l'alta velocità, riguardano una variante in particolar modo della linea, del raddoppio della linea tra Orta e Falconara per farla passare per l'aeroporto e farla riconvergere poi a Gualdo Tadino passando chiaramente per Gubbio. Questa è una delle sue proposte, ma ce ne sono altre. Come valuta questo atto, diciamo, di programmazione? Credo innanzitutto che sarà uno degli atti più importanti che l'Assemblea legislativa dovrà discutere e quindi approvare. Per quanto riguarda l'alta velocità ferroviaria, e più in generale le linee su ferro, credo che stiamo concordando sul fatto che la ferrovia centrale Umbra è una dorsale centrale della nostra regione da valorizzare in maniera molto incisiva. Per quanto riguarda poi la situazione di alta velocità ferroviaria, si sta discutendo molto sul nodo, chiamiamolo ovest, la stazione nella zona della media Etruria. Noi però abbiamo proposto anche, in particolare, la possibilità che la Orte Falconara possa essere deviata con la cosiddetta variante, almeno come proposta strategica, per toccare il territorio di Gualdo Gubbio fino a toccare l'aeroporto internazionale dell'Umbria, Perugia, San Francesco d'Assisi, perché riteniamo che quello possa diventare un nodo strategico per tutta l'Umbria. Quindi la valorizzazione dell'aeroporto, anche aprendo l'aeroporto ai privati. La SASE oggi ha 20 anni di concessione per gestire l'aeroporto, quindi è arrivato il momento che si apra anche all'ingresso di privati. In quel punto noi riteniamo fondamentale avere un nodo, una stazione ad alta velocità ferroviaria, e in quel punto si stanno anche attestando le linee stradali della quadrilatero Umbria Marche S.P.A., che ci collegheranno anche con l'area adriatica. Questo è un elemento fondamentale, e poi nel piano noi abbiamo ricordato l'essenzialità di riqualificare la strada E45 e non trasformarla a pedaggio, citando in ultimo la necessità che per quanto riguarda l'area ternana debba guardare sempre con maggiore correlazione con Roma e con l'area di Civitavecchia. Parliamo adesso di ferrovia, di trasporto su ferro, poi entriamo anche nell'E45, di cui Ricci ha già parlato in parte, ma poi dovremmo parlare anche del nodo di Perugia che è collegato in qualche modo. Rometti, dicevo, lei è un po' estensore insieme ai tecnici, chiaramente a molti tecnici della regione di questo piano, l'ha vissuto da assessore. Questa proposta che Ricci adesso sottolineava, quella della variante, il raddoppio ferroviario Orte-Falconare, è venuta fuori anche nella passata legislatura, soprattutto attraverso anche un comitato, come mi pare si chiami l'Ultimo Treno, per riuscire ad arrivare a concretizzare questa indicazione. Si potrà fare? Come accoglierà la maggioranza questa proposta che mi pare sia abbastanza bipartisan, devo dire? Non viene solo dal centro-destra, ma ci siano anche altre indicazioni. Innanzitutto io credo che dalla discussione che abbiamo fatto in alcune commissioni in questo periodo mi sembra che non ci siano punti di vista così diversi in modo insormontabile fra noi e il centro-destra. Perché sei un progetto strategico. Progetto strategico, sicuramente infrastrutture. Il piano dei trasporti significa infrastrutture, significa servizi, significa mobilità su strada, ferrovia, aereo, logistica, merci. Quindi è sicuramente una parte che incide molto sulle dinamiche economiche del nostro territorio. Per quel che riguarda il trasporto ferroviario, che io ho detto anche in commissione, lo dicevo quando ero assessore, è il vero problema dell'Umbria. Il ritardo infrastrutturale vero, l'Umbria lo ha sulle infrastrutture ferroviarie, non tanto sulla rete viaria, sulle strade, dove completando le trasversali, che sono oramai in fase di ultimazione, di fatto noi abbiamo una buona rete di quattro corsi, tutta gratuita, e non dimentichiamolo, diversamente rispetto ad altre regioni dove si paga il pedaggio anche per andare da Fano a Pesaro, da Cesena a Forlì. E quindi il ritardo infrastrutturale, diciamo, della nostra regione, chiaramente deve essere affrontato, sapendo che richiede investimenti importanti, sapendo che richiede investimenti da parte statale, e quindi abbiamo cercato di mettere anche una buona dose di realismo, perché in questo momento chiaramente investimenti importanti da questo punto di vista ne vedo pochi in giro per l'Italia. Quindi, per quel che riguarda l'alta velocità, io credo che quest'idea di agganciare l'alta velocità a 50-60 km da Perugia sia forse la migliore idea del piano, perché cambia radicalmente le possibilità di collegamento esterno della regione. Chi va verso sud va a Roma, facilmente da Terni, da Spoleto, si va a Roma e si prende l'alta velocità. Chi va verso nord va nella zona di Valdichiano, dove sarà, e prende l'alta velocità. È fondamentale per il turismo e quant'altro. Per quel che riguarda le trasversali, la nostra trasversale, chi sta sulle trasversali purtroppo è molto penalizzato, anche perché Ferrovede dello Stato negli ultimi anni, devo dire che questa è stata un'impostazione che noi come regioni abbiamo criticato tutte, si è dato molto importanza all'alta velocità, all'alta capacità, e si è tenuto meno in considerazione i collegamenti trasversali, quelli che hanno meno utenza, quelli che non si pagano a mercato, come dice Ferrovede dello Stato. Un intervento, diciamo, di raddoppio della orte falconare, io sinceramente per i costi importanti che determina, non lo vedo domani, dai contatti che abbiamo avuto, però naturalmente nel piano noi dobbiamo avere comunque una strategia su cui lavorare per i prossimi anni. Quindi prenderà in considerazione la maggioranza questa proposta. E l'idea non è che la prenderà in considerazione la maggioranza, nel piano c'è scritto, nel piano regionale dei trasporti in discussione, sul quale io ho lavorato, c'è scritto chiaramente che nel momento in cui si determineranno le condizioni per andare al raddoppio di questa direttrice, di questa trasversale così importante, si dovranno valutare le migliori soluzioni e quindi questa ipotesi rimane aperta. Quindi, ora, se si vuole precisare meglio questo aspetto, lo possiamo fare, però rispetto a una chiusura che la regione Umbria ha sempre avuto negli anni scorsi su questo punto, nel piano noi invece abbiamo oggettivamente tenuto conto che c'è il tema dell'aeroporto, c'è il tema di Gubbio, c'è una probabilmente, bisogna valutare anche l'utenza, la massa critica che questo determina da un punto di vista trasportistico, però nel piano già c'è un'apertura da questo punto di vista. Allora, sì, abbiamo sforato un po' con Rometti anche perché poi, dicevo, è stato assessore a questo ramo, per cui abbiamo approfondito alcune tematiche utili adesso anche per Ricci, perché continuiamo a parlare di trasporto ferroviario, è stato abbastanza chiaro, mi pare ci sia, anche una certa assonanza con quello che lei propone, Ricci, in base a quanto ha detto Rometti. La questione seconda dell'Assemblea legislativa, noi abbiamo proposto che sul tema della variante ferroviaria Orte-Falconara ci possa essere un approfondimento, quindi un tracciamento di un corridoio lungo il quale magari poi sarà determinato con un progetto preliminare il tracciato preciso che, ripeto, dovrebbe interessare le zone di Gubbio-Gualdo, l'aeroporto, quindi il nodo di Perugia, e poi la riconnessione verso Firenze, verso Foligno-Roma. Quindi da questo punto di vista noi ci auguriamo che nel piano dei trasporti ci sia questa ulteriore precisazione, direi cartografica. Poi un altro tema importante che lei ha citato, è quello del nodo di Perugia, le gallerie, il fatto che comunque ormai la regione Umbria deve guardare con grande interesse a realizzare questa variante esterna che possa farci evitare in parte le gallerie su Perugia con ovviamente le code, ma anche i disagi e non solo anche i rischi complessivi. Da questo punto di vista ci sono state alcune emozioni presentate sia dal centro-sinistra che dal centro-destra. Credo realisticamente che noi dobbiamo riprendere il nodo nel suo complesso, quindi la variante stradale così come tracciata e approvata dal Cipe nel 2006. Ovviamente poi noi siamo anche pronti a valutare un primo stralcio qualora sia congruente con il progetto complessivo ampio del Cipe 2006. Credo che nel nodo di Perugia bisogna però introdurre un fatto politico nuovo importante, cioè dire al Governo nazionale, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che non si tratta di una variante stradale utile a Perugia e al capoluogo, ma è utile al sistema trasportistico italiano nella connessione tra il sud e il nord d'Italia, cioè portare questo progetto a rango di progetto strategico nazionale. Allora, Rometti, lei su queste considerazioni che Faricci ha presentato anche una mozione, mi pare, insieme ad altri suoi colleghi della maggioranza, in cui dice, insomma, il nodo di Perugia, visto che è impossibile oggi per le risorse costruirlo così come era progettato con le quattro corsie, costruiamolo a due, però costruiamolo perché chi è pendolare come me, come lo stesso Ricci, lei un po' meno magari, perché a Perugia ci abita, però tutte le mattine sinceramente diventa un problema a entrare nel capoluogo. Allora, andrà avanti questa sua indicazione? Faccio tesoro io della mia esperienza partendo dal fatto che comunque il nodo di Perugia è una circonvallazione, un raccordo anulare, semi-raccordo anulare che va da Collestrada a Corciano. Questo intervento, in parte dentro l'eventuale trasformazione dell'Ai45 in autostrada che non sembra andare avanti, in parte con un progetto da Madonna del Piano a Corciano con un progetto specifico che costa un miliardo di euro, purtroppo è un intervento del quale parliamo da 15-20 anni ma del quale non riusciamo a fare un passo, sul quale non riusciamo a fare un passo avanti. Nell'ultimo scorcio della scorsa legislatura con il Ministero, facendo anche qui tesoro del realismo e secondo me anche del buonsenso, abbiamo pensato, in accordo con il Ministero, eventualmente di ragionare intanto in un primo stralcio che potesse comunque dare una risposta importante. Qual è la risposta che si può dare? Almeno da Madonna del Piano arrivare sino a Silvestrini, Sant'Andè delle Fratte, riconnettersi con la pievaiola della quale è stato finanziato l'ammodernamento, un primo stralcio che tiana naturalmente, come diceva Claudio Ricci, è una parte del progetto già approvato, quindi che si avvia un progetto più generale ma intanto se ne fa una parte sapendo che risorse per tutto l'intervento in questo momento il Governo non le ha messe fino ad oggi a disposizione, un intervento abbordabile economicamente, 200-220 milioni, che ci sottrae dalle gallerie, secondo gli studi che hanno fatto i tecnici sul piano dei trasporti, dei 2.700 accessi a Perugia la mattina sulle gallerie ne toglierebbe almeno un terzo e come dicono i tecnici risolveremmo gran parte dei problemi perché la congestione che c'è sulle gallerie è il vero punto, soprattutto ad esempio io abito sulla zona nord del comune di Perugia, se devi andare a Silvestrini con carattere di urgenza rischi di maniere e quindi questo è un intervento, l'oggetto della mozione che pensavo venisse discussa questa mattina e che secondo me è un intervento che in questo momento anche perché poi un'opera avviata in genere quando si avvia un intervento in genere è più facile che si completi e penso che questa strada la dovremmo affrontare. Chiarissimo, è un'ipotesi percorribile cioè il centrodestra approva questa indicazione oppure dice no il progetto costruiamolo per intero perché poi non ci riusciamo più a farlo viene fuori insomma a metà che dici? Noi la nostra posizione è molto chiara noi diciamo dobbiamo realizzare il progetto nella sua interezza come approvato dal Cipe nel 2006 cioè due corsie per senso di marcia quindi un'infrastruttura stradale di grande importanza in questa fase però ovviamente se il progetto stralcio è conforme al progetto generale può essere una prima parte del progetto generale con realismo bisogna oggi camminare sempre su due livelli realizzare comunque una parte dell'opera e continuare nell'impegno per trovare su scala nazionale le risorse per completarla sarà approvata a larga maggioranza le due mozioni sono state presentate quasi in parallelo penso che si possa trovare in aula nelle prossime settimane una sintesi così come su alcuni aspetti abbiamo già fatto perché quando ci sono progetti importanti per l'Umbria io credo che occorra avere anche questa capacità di trovare una sintesi qualora questo possa portare al beneficio per tutti i cittadini in termini di sviluppo socio-economico Ricci il prossimo giubileo della misericordia secondo l'ex sindaco di Assisi cosa potrà portare all'Umbria? io ricordo negli anni 1997 successivi fino al 2000 mi occupai di giubileo nel mio ruolo di amministratore del comune di Assisi in quel giubileo grande giubileo dell'anno 2000 si parlava molto di infrastrutture erano altri periodi sul piano socio-economico era un giubileo dove vennero realizzate molte infrastrutture in questo giubileo in realtà noi dobbiamo utilizzare bene le infrastrutture che già ci sono quindi noi abbiamo proposto una attenzione attraverso una mozione per cui si è messo a punto un piano di promozione accoglienza servizi informazioni mettendo insieme le componenti che già esistono oltre a questo il grande giubileo della misericordia può essere un'opportunità di promozione ma anche per maggiori connessioni con Roma e anche per traguardare alcune nuove linee aeree io in particolare ho consigliato e abbiamo consigliato come centrodestra a liste civiche la connessione con Madrid interessante tra Perugia e Madrid come linea aerea ma in particolare durante il giubileo perché molti flussi provenienti dal Sud America i luoghi di origine di Papa Francesco arrivano in Europa proprio a Madrid e se noi avessimo un collegamento Perugia-Madrid potremmo attrarli in maniera ottimale nella nostra regione più in generale Madrid è un aeroporto su cui la SASE da anni sta guardando con interesse perché è un aeroporto importante sul piano dei valori credo che il giubileo oltre che alla messa a punto di un piano strategico per l'accoglienza la gestione l'informazione e quindi anche la possibilità che tutto questo produca economia sia e questo lo dice la mozione una occasione per magari inserire nello statuto della regione in maniera chiara il valore della santità umbra di San Francesco Patrono d'Italia di San Benedetto Patrono d'Europa perché questi valori in realtà sono anche delle opportunità diciamo culturali e socio-economiche Rometti come in che modo guarda la regione questo evento Ricci ha parlato insomma dell'importanza e poi chiaramente ricopre Assisi in particolar modo però l'Umbria intera avendo noi in Umbria uno dei luoghi della cristianità mondiale che è Assisi credo che dopo il Vaticano forse non so quale luogo può rappresentare al meglio lo spirito religioso e comunque l'Umbria che ha diciamo nei suoi connotati al di là di chi crede chi non crede diciamo la dimensione religiosa è un elemento fondamentale della nostra identità culturale storica territoriale penso che il Giubileo sono momenti che comunque come dire legano la nostra terra a un evento di questo genere io mi ricordo negli anni 2000 erano i primi passi che facevo nella mia esperienza amministrativa il comune di Perugia ero vice sindaco non ci fu quell'invasione che ci si aspettava mi ricordo si parlava tanto di Giubileo si parlava tanto di realizzare strutture infrastrutture che potessero favorire diciamo un'accoglienza e flussi importanti poi mi ricordo che insomma il Giubileo fu un fatto che si svolse con grande regolarità normalità e non ci furono come dire ecco io penso che questo succederà anche questa volta però per noi può essere un'occasione importante da un punto di vista turistico in questi anni l'Umbria ha investito molto sulla sua capacità d'attrazione ha investito molto sulla sua penetrazione da un punto di vista anche della percezione all'esterno che si ha della nostra terra quindi il Giubileo può essere un anno in cui per quel che riguarda il turismo non solo religioso può essere un'occasione veramente importante quindi da questo punto di vista penso più anche io come diceva Claudio Ricci rafforzare tutta quella che è la rete dei servizi la cultura dell'accoglienza tutta questa capacità anche degli operatori privati infrastrutture in corso ce ne sono speriamo che ecco intanto una delle trasversali la più quella sicuramente la Foligno Civitanova verrà completata a breve anche la Perugiancona al tratto Umbra oramai siamo in dirittura dell'arrivo però questa può essere anch'io credo che cogliamo l'occasione per far decollare fino in fondo al nostro aeroporto questo volo per Roma questo volo per Roma lo dicono gli operatori lo dicono chi lo prende e noi l'avevamo sollecitato come regione il collegamento con Fiumicino è una mossa azzeccatissima perché ci mette in relazione con il mondo vai a Fiumicino e vai in ogni luogo e quindi questa può essere veramente l'occasione per fare completare insomma tutto quello che si è fatto in questi anni sull'aeroporto siamo quasi alla conclusione Ricci Assisi parafrasando Papa Benedetto è un po' come l'atrio dei gentili Assisi sono arrivate tantissime personalità a luogo di incontro tra diverse culture religiose politiche ecco lei ha stretto tantissime mani perché poi ha fatto il sindaco di Assisi per una decina quasi dieci anni qual è la stretta di mano che le ha dato più emozione un'esperienza molto ampia 19 anni tra vice sindaco assessore sindaco centinaia di personalità probabilmente i papi Benedetto XVI e Papa Francesco ma direi per quanto riguarda il dialogo Shimon Peretz e Abu Mazen sono le due correlazioni che ricordo con maggiore anche intensità soprattutto una frase di Shimon Peretz e Abu Mazen diciamo che rappresentano nel lato palestinese e israeliano sostanzialmente un percorso complesso di pace come direbbe Benedetto XVI la pace alla fine è un cammino insieme un'esperienza insieme anche nella complessità di avere identità molto diverse ma Shimon Peretz nel parlarmi e nel parlarci di questo dopo il dialogo ufficiale ci ha detto che alla fine la cosa più importante è far giocare insieme i bambini nel senso che i processi di pace sono processi culturali dove probabilmente il tempo la crescita il fattore educativo questa frase anche molto semplice far giocare insieme i bambini palestinesi e israeliani credo che sia alla fine l'atto più importante che si possa fare in ogni luogo al di là di un luogo complesso come quello correlato ai luoghi della Terra Santa concediamo un minuto in più e Rometti non ce ne vorrà Claudio Ricci per presentare anche un libro che ha scritto insieme a Daniele Morici che si chiama La miniera delle meraviglie eccolo qua in 30 secondi perché poi avrà modo di presentarlo in tantissime altre occasioni di cosa si tratta Ricci? è un itinerario attraverso il paesaggio culturale italiano ed europeo il turismo le industrie creative il nuovo manessimo la nuova economia sono tematiche che anche sintetizzano in parte alcune esperienze di questi quasi 20 anni di attività istituzionale e professionale hanno una chiave di lettura è un libro aperto al pubblico dove noi non volevamo fare un saggio ma qualcosa che implementasse su questo la consapevolezza e quindi è un saggio romanzato dove 12 personaggi dialogano su questi temi con un finale miniera delle meraviglie perché occorre scavarla si parla spesso di turismo cultura paesaggio bisogna scavare queste opportunità ma farlo soprattutto aumentando la consapevolezza perché come spesso si dice nel libro forse se facciamo questo tra dieci anni ci saranno più giovani che decideranno su questo di creare anche nuove imprese bene un minuto ci prendiamo anche se il tempo è finito con una domanda politica la riforma del senato e la parola fine al bicameralismo perfetto rappresenta un passo di grande rilevanza positivo o negativo in 15 secondi perché poi questo sarà un tema che approfondiremo rometti alla fine del bicameralismo sicuramente è un fatto positivo poi si può discutere elezioni diretta o non diretta però è un fatto positivo quello che io critico nella riforma costituzionale che verrà adesso dopo il senato abbiamo parlato tanto di elezioni diretta o non diretta del senato è il titolo quinto lì le regioni e la nostra regione subiranno secondo me delle decisioni che sinceramente io non condivido bene Ricci credo che tutto quello che porta alla semplificazione e alla maggiore velocità nelle scelte sia positivo oggi un investimento può arrivare in Italia o nella nostra regione certo se vi sono le infrastrutture le condizioni socio-economiche i servizi ma soprattutto se si riducono i tempi di rilascio delle decisioni e quindi delle autorizzazioni quindi tutto quello che riduce i tempi delle decisioni e quindi conseguentemente di rilascio delle autorizzazioni è semplifica e utile al nostro paese grazie per essere stati con noi a Claudio Ricci portavoce del centro-destra e liste civiche grazie e grazie a Silvano Rometti capogruppo di socialisti e riformisti grazie anche a voi per averci seguito l'appuntamento è alla prossima settimana arrivederci grazie a tutti grazie a tutti